Una giornata dedicata alla riflessione sull'umanità ferita nelle periferie dell'abbandono a Barretta presso il santuario Madonna dello Starpeto. Un'iniziativa promossa dalla comunità Arca dell'Alleanza, dall'Associazione Amici dei Bambini, dal gruppo Chezalo Onlus. Un focus sull'abbandono nei diversi luoghi e nelle sue diverse forme. Un cammino incentrato sulla famiglia ferita, prima cellula della società, pilastro su cui basare le diverse esperienze dell'individuo. Siamo qui in questa giornata per vivere uno spazio intanto di preghiera, di condivisione, di testimonianza su un tema importante perché è un tema che spesso viene richiamato dal Santo Padre. Ecco come la Chiesa è chiamata ad uscire per raggiungere le periferie abbandonate e raggiungere le persone che sono ferite. Nella nostra esperienza noi portiamo avanti questa missione particolare che è quella di ricostruire assieme a Gesù la famiglia ferita. Quindi il nostro impegno in questa giornata è anche portare la nostra testimonianza soprattutto di evangelizzazione verso la famiglia ferita. Sicuramente come associazione Amici dei Bambini parleremo e approfondiremo le ferite dell'abbandono appunto di un bambino abbandonato. Un bambino che una mamma e un papà non ce l'ha ma vogliamo anche testimoniare come l'incontro con Cristo possa sanare le ferite di un bambino abbandonato nell'incontro con una mamma e un papà. Noi siamo qui oggi come associazione in questa bella giornata d'incontro con Amici dei Bambini e l'H d'Alleanza per testimoniare il nostro impegno a favore e a sostegno dell'infanzia in particolare nei luoghi e nelle diverse forme dell'abbandono.